Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia, con i suoi corsi di laurea in matematica, ti permette di acquisire le competenze per individuare gli elementi essenziali di un problema e studiarlo in modo sistematico fino alla costruzione di un adeguato modello risolutivo. Dopo i primi tre anni di solida formazione matematica, puoi decidere di approfondire i tuoi studi iscrivendoti al corso di laurea magistrale in matematica della durata di due anni. Il ventaglio di possibilità di scelta è molto ampio. In base ai tuoi interessi puoi scegliere tra quattro percorsi. Se vuoi diventare un insegnante o avere una preparazione generale, dovrai focalizzarti sulla matematica classica, anche connessa alla fisica. Se invece vuoi diventare esperto in sicurezza informatica, potrai farlo attraverso lo studio di algoritmi crittografici e chiavi matematiche. Oppure, se propendi per una specializzazione in scienze della vita, scoprirai la matematica che sta alla base della diagnostica per immagini, come le TAC, le risonanze magnetiche e gli esami endoscopici. Altrimenti potrai avvicinarti al mondo dell'economia e della finanza, analizzandone i modelli matematici che lo governano. Grazie a convenzioni con 30 importanti università europei, puoi seguire lezioni e sostenere esami all'estero, riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea. È attivo un accordo tra l'Università di Perugia e l'Università Michevic di Poznan in Polonia per ottenere un doppio titolo, double degree, italiano e polacco, di laurea magistrale in matematica spendibile nei due paesi ed altrove. ricorda che la figura del matematico è molto richiesta da enti, industrie, aziende ospedaliere, banche e società commerciali, centri spaziali, società che offrono servizi di consulenza aziendali e molto altro. Perché non esistono mondi impossibili.